buongiorno amiche e amici oggi what I eat today 15 novembre benvenuti sul mio canale e se non avete ancora fatto iscrivetevi per non perdere nuovi video quindi oggi porridge di avena con latte di riso carrube farina di carrube cannella una bella spolverata e non dolcifico perché aggiungo gocce di cioccolato extra fondente anche le farine di carrube dolcifica un po bene in piatto si è ben addensato come piace a me non sentite il profumo di cannella bene guarnisco con mirtiglie essiccati banana qualche fetta semi di cia e due noci due gheriglie di noci e buon appetito ora passiamo allo spuntino che solitamente faccio alle 10 e 30 sì mi ripeto ancora con la banana ma lo smoothie ha per forza bisogno c'è chi mette la canapa c'è chi mette l'avena insomma io alterno un pochino e poi c'è pochissimo frutta a disposizione in questo periodo quindi mi ripeto un po ed eccoci sono le 12 e 30 siamo giunti al pranzo sicuramente due bicchieroni di acqua prima di cominciare a mangiare con la pasta fumante di mais sono spaghetti di mais prima mangio le carote e poi la pasta questa sono questi sono spaghetti con i broccoli stufati con panna di soia al curry e peperoncino nulla ho fatto semplicemente stufare e appassire i broccoli le rosette con olio e peperoncino e aglio dopo che sono appassiti a una parte di frullati poi l'altra parte li ho lasciati interi ho aggiunto la panna di e la pasta sono degli spaghetti di mais biologici dopodiché dopo gli ho fatto restringere la panna e ho aggiunto un po' di curry e voilà ho fatto amalgamare la pasta cotta al dentissimo e ho fatto il piatto e ora se magna facciamo merenda allora io mangio lo yogurt che ho comprato la scorsa spesa settimanale dell'euro spar sono il piccolato no non ho messo niente ci sono le frutti ci sono i frutti all'interno infatti qui ci sono i mirtilli invece leonida invece leonida sta mangiando lo yogurt della valsoia yogurt al gelato yogurt al gelato yogurt di mandorla al pistacchio che lui adora e se lo sbrana ok buona merenda con il sottofondo di masce orso perché si mangia sempre con rayoyou perché si mangia uguale allora insalatona con iceberg e mais dolci acido balsamico a gogo e pollo al limone pollo al limone e non è ketchup ma è salsa barbecue perché io vado in fissa con la salsa barbecue che adoro perché speziato piccantino bene buon appetito bene ragazze questo è il mio water night today spero vi sia stato di spunto di stimolo per fare un'alimentazione un attimino più controllata più non nelle quantità perché mangio abbastanza ma più che altro nella qualità i prodotti la varietà bene vi mando un grosso bacio e al prossimo video ciao 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 ciao